siamo alla combriccola del blasco zona selvole il gruppo vagliagli maurizio panorama suggestivo sulla montagnola e quel c'è grossa come eccoci si sta arrivando a dievole si entra proprio dentro dievole abusivamente si siamo molto abusivi mi fa vedere subito ma tante fanno per cui c'è vita cancello di Tornanu chiudere la porta chiapa rifiuda chi chiude non ri eccoci siamo di rientro